Ma ho sempre amato fotografare in lunga esposizione e auto e moto sono i soggetti più interessanti da scattare con questa tecnica. Voglio fissare la performance, mostrare la velocità in una foto. Scattare in GT7 è come nella realtà, puoi andare a decidere le luci, i dettagli, il modo in cui vuoi scattare la foto è super realistico e il mio consiglio è quello di scegliere il proprio settaggio e scattare. DINAMICO